... Ottimo? Mia? No. Ok. non ci questo è il buco di io mangio il joystick a parte il cane a parte il quadro bravo bello dai non sei sicura perché c'era un'esplosione del latte di noci quindi non si vedeva nulla in quanto Dani stava già bevendo tutto quanto però insomma latte di noci vuela baby girl brim 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 e dentro Dani ti avvicini mamma mia Dani te lo giuro no 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 tutta tua signora che so questa è la seconda volta che fai il gol così che neanche lui sa come c***o l'ha fatto va bene devo svegliarmi però ammetto di essere un po' stanco anche io vai velo 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 no è palo è palo no ma non è palo potevi raddrizzarla però non ci arrivavo più facci pensa a Martinella non ti preoccupare Martina is here to save the day oh ah no sei troppo indietro guarda qua guarda qua bello non l'ho visto però guarda allora devi guardare dietro vada freddicato dove andava quindi era molto carino non era male dai l'ho tolta a pelo però l'ho tolta nello di double touch è stato una clip bro bro questo è il gol oh 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 no va la traversa però se sei bravo va bene bravo io quando mai sono bravo non capisco più in che rank sia se siamo platino silver guarda qua guarda qua come entra proprio lentamente con un po' di scudo non poteva pararla guardalo guardalo però si ma ormai era imparabile ve lo manco le suore ve lo oh un buon kick off lo bampo ok provo a tirartela ve lo vai però beh no mi deludi no no ma pare che se la tiravo era la fine perché rimbalzava di andare a mangiare la pasta col tonno veramente ok la mystery box forse perché erano quelli che hanno fatto i piatti peggiori e sono già presciute sai eh sì 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 mi sa di sì ok velox un tiro molto particolare che mi permetterà di fare nulla lo bampo sono un po' tossica velo no si capisce che vuole fare una win se bisogna farlo per vincere e dove la stai portando la palla dai però questa è colpa mia velox però però dai non lo so dai capito dai addio per sempre velox dai velox concentrati dai io sono concentrato se non fosse per panic mi fa rire quando vai al cesso sei concentrato vai oh no mi ha spinto madonna ti deve venire una una di quelle cacarelle te lo giuro bravo velox sempre detto che sei fortissimo velox no come la paro questa con la madonna no madonna se ti lascio come di che off da sola godevo fai è dentro teoricamente l'abbiamo anche ritoccata vai tu vai tu ok ma per fortuna che ti ha followato si perché me l'ha parato poi però quando si sbaglia si prende gol fermo io sono fermissimo tranquillo tranquillo lo volevo fare il trucco del bengala fondamentalmente arriva diciamo a questa questo sentiero dove ti ritrovi diciamo in difficoltà in un angolino buio praticamente porco no allora io non ti posso lasciare solo un secondo che ti fai subito lo fai subito mettere dentro no guarda il video game dai non ho parole non ho parole guarda la guarda la guarda la guarda la guarda che spallonata adesso sto passivo come lo schifo in porta stai passivo come Tani non so te tranquillo avevi vinta questa Velox spegni il monitor fai Tani simulator e puoi anche andare a ferire l'ho fatto eh l'ho fatto davvero no no Velox ah Velox adesso guarda diranno we can still win this video game oh my god porca non vedo niente non vedo niente non vedo niente tranquillo è come Tani sono Tani sono Tani guarda cosa non sono fra di uno e ne fai un'altra e questi sono bravi me lo sento dai dai Velox c'è ma cosa fai? è una goal l'ha toccata è sì che era goal ma infatti di me mi vergognerei è il Pepe ma Velox io sono minorenne non hai diritto di toccarmi io non t'ho proprio toccato però se la metti dentro al posto mio va bene così? sì ora concentriamoci dai oh perché vuoi di FK? no no l'ho deviata vuoi che te la insegno? si mi insegni per fuori guarda qua che tira percato che non è goal è fuori però poteva ancora essere goal no Velox c'è veramente io non ho parole questa è la goal vuoi fare goal è goal questo questa goal non va bene sì ma non l'hai fatto tu come no? ma si è fatto da goal l'ha controllato psicologicamente ah l'hai fatto tu? no la sì ma ecco no che si stanno trollando per forza sì stanno trollando stanno trollando guardalo no no stanno trollando sì 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 bumpato Velox Velox qua Velox Velox dimmi Velox dimmi se non fai goal sei scasso ok però se quello si mette avanti non va bene e mi ruba il busto guarda che c***o di m***o ha sfondato non neanche pensavo da toccarsi no 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 ma la gioca no 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 pira no no Velox è fuori però l'altro la tira ed è velcro mi deludi in una maniera incredibile Ciao te persa Posso spiegare? Allora se a questo kickoff non mi follow Devi almeno pararmela, decidi Ho visto 100 euro per terra Eeeh Velox, devo recuperare? Non voglio perdere contro questi Tu vuoi perdere? Dai però, no io no Vai Va bene Vado l'ho controllata benissimo Vai Vabbè vai nel senso, dai andiamo Mi triggera come gioca sinceramente Si non capisco Perché cerco di Perché cerco di Predictare i suoi movimenti ma sono impredictabili Perché non sa nemmeno lui cosa vuole fare No ma stanno giocando a caso E' proprio diverso Cioè è andato veramente te la parata What? Para, 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 para Magari andiamo a segnare No Ho troppo alto Faccio giocare, faccio toccare, faccio toccare Vado eh Ottimo kickoff Non male Non male, non male, non male L'ho ritoccata Forse era meglio non toccarla, no In realtà In realtà va bene Mando verso centrale Ok Ti la devio Vai che è tua Dai Riesci a ritirarla in qualche modo? Ci provo Gol mio Me l'ha parata Eh me l'ha parata, è stato bravo No Ah cosa fa? E' dentro? No Magari Need the boss Non ci sono Mi dispiace Oh è dentro GG 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 Dai buono 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 Una 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 Grazie a tutti